E' in condizioni molto gravi la bimba di due anni ricoverata in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo esser stata colpita alla testa da un pesante ramo che venerdì sera si è staccato da un albero nel parco delle Cascine ed è piombato sulla piccola che con la zia e il padre stava passeggiando tra gli stand di uno dei festival che animano l'estate fiorentina. Uno schianto terribile che ha provocato la morte della donna Donatella Mugnaini, 51 anni, e il ferimento appunto della bimba. La procura di Firenze ha aperto un'indagine per omicidio colposo e lesioni colpose che al momento è a carico di ignoti. Il PM Giuseppe Ledda, titolare delle indagini, ha disposto una perizia per individuare le cause che hanno portato alla caduta del pesante ramo. Il sindaco Dario Nardella, tra i primi a correre sul luogo dell'incidente, ha riunito invece gli assessori per una giunta straordinaria e ha sottolineato come nel 2013, i controlli sugli alberi della città siano passati da 12.000 l'anno a 12.500, controlli che hanno interessato anche il bagolaro di 80 anni da cui si è staccato il ramo che ha ucciso Donatella Mugnaini. Questo albero è censito nella mappatura degli alberi delle Cascine, è schedato dal 2006 ed è stato anche controllato attraverso la verifica di stabilità certificata nel 2010 l'ultima volta. E visto che i controlli certificano la stabilità di un albero per 5 anni, quello incriminato è a tutti gli effetti un albero da considerare in buono stato di salute. In ogni caso, ha detto Nardella, il Comune è pronto a mettere ogni dato e ogni documento a disposizione della magistratura.